Crescono nel territorio i servizi offerti alle donne vittime di soprusi grazie all'apertura di un nuovo sportello antiviolenza finanziato dalla Regione Veneto e gestito dal Centro Veneto Progetti Donna con i comuni di Cadoneghe e quello di Vigo d'Arzere. Il nuovo servizio che resterà attivo per tutto il 2018 si affianca dunque agli sportelli Qui Donna ampliando le possibilità di assistenza alle ragazze e alle donne del territorio con un punto qualificato di ascolto. Allo sportello sarà possibile accedere tramite appuntamento concordato con le operatrici raggiungibili attraverso il numero verde gratuito 800 81 46 81